Vedi chi vuoi proiettare, si vede già, spingi in avanti e vai Guardai quella manica là dentro, salvo, guardai la sua manica là Occhio lì, occhio lì, controlla quella manica qua, il braccio Fedric Niwray, Fedric Niwray, Fedric Niwray, Fedric Niwray, Master 3, Mel Purple Light, this will be your final call Matt Jardin, you have been... DQ Non iscriviti, assoluti Purple, Master 1, Mel, Fader, Sebastian Salomon, David Pollard, Alberto Montes, please come to the podium Nice Essa manca aí, qual è la manica? La manica, la manica, la manica, la manica salvo, guardai tu la manica qua, qual è la sua, bravo Vamo lì Renato Tavares Moraes Antonio Enrique Junior Antonio Enrique Junior Antonio Enrique Junior Against... Sorry Caime Solace Caduto Caime Solace Caduto Caime Solace Caduto Is he there? Yeah, 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 yeah Bravo, bravo, bravo Tira più dentro quel braccio Gomi t'attaccato a tuo fianco e tuo gomito lì de braccio destro, chiudi gomi Atenção, per favore Atenção, per favore, representativi da Checkmat Please come to the podium Atenção, per favore, pedimos aos representantes da equipa Checkmat Gira dentro Gira, gira 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 ancora Gira ancora Gira ancora Fai spazio, fai spazio Non lasciare pressione lì con la tua testa, salvo Fica la testa dentro, vai Fica dentro la testa Fica dentro la testa, vai Salvo deve prove tempo Gita dentro gli knot 3 point, referee 3 point 3 point, referee 10 sec no per la testa counting 3 point, rag 3 point, ma beger Salvi sali sali away Salvo deve recuperare Giamal, tu vieni? No. Daj salto! Giamal, Giamal, bisogna imparare il mio team. Pre minuti. Vai, vai, vai. Daj salto! Daj tutto salto, eh. Giamal, puoi il piede tra le leggi. Puoi il piede tra le leggi. step over, step over, don't wait for him, don't wait for him, go, 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 go. There he goes, let's go, let's go. Jamal, be careful for more plat, eh? Antonio Henrique Jr. Antonio Henrique Jr. Nice, sir. Gira em quatro pontos, Cássio. Open class, black belt. Ah, Jamal. Gira dentro, gira dentro, gira dentro, Cássio, em quatro pontos. Gira, gira dentro, vai, vai. Gira, tira em plato, vai, gira. Quattro minuti. Buono, buono, lavora. Mettiti a posto nella posizione, mettiti a posto nella posizione. Jamal, six zero. Salvò, salvò. Deve finalizzare, salvò. Dai, salvò. Dai tutto, salvò. I piedi, i piedi, guarda i piedi, guarda i piedi là sotto, tiralo dentro. Dai, 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 dai. Ah, Jamal. Mia on the floor, mia on the floor. Via a decola. Jamal. Adon, maio, blue, opening class, Yalez, Ovnir, and Chelet, Thomas, please come in the check-in, bae. Jamal, Jamal. Vai Ciccio, vai dentro tutta Mi stanno colpiti e attacchi il braccio, è l'unica cosa che puoi fare Mi stanno colpiti, come prima Massimo Salerno, please come to the podium Salmo manca un minuto, devi finalizzare Vai, sbita i testi Tira dentro la testa e vieta Sali e metti la testa sotto Sali e metti la testa sotto Adel, Mel, Blue, Open Class, 2-2 Jetil Ledvole, Frontline Academy, please come down to the warm-up area and see number 2 That is Jetil Ledvole, from Frontline Academy, please come down to the seat number 2 in the warm-up area 15 secondi 15 secondi Vai dentro tutta Salmo 15 secondi 15 secondi Salmo Iscriviti